Siamo con Marco Zambuto che è il sindaco di Agrigento, nonché presidente dell'Assemblea regionale del Partito Democratico e candidato alle prossime elezioni europee per il Partito Democratico. Immediatamente vogliamo fare una domanda direttamente al sindaco in questo caso. Marco Zambuto, la sua esperienza di sindaco di Agrigento quanto influirà in quello che sarà il percorso per entrare e dire la propria visione all'interno di una comunità europea che appare sempre più distante? Io penso che proprio l'esperienza di sindaco, l'esperienza di un amministratore che ogni giorno si confronta con i problemi concreti sia l'esigenza che ha oggi questa terra di Sicilia per rendere l'Europa più vicina e non più irraggiungibile come l'è stata fino a oggi. Noi come comuni, come territori non abbiamo potuto godere ma perché non abbiamo compreso cosa in realtà sia stata questa Europa perché l'abbiamo vista come un'istituzione fin troppo lontana, un'istituzione fin troppo lontana dai cittadini. Ora, o riusciamo a rendere l'Europa vicina ai territori, con la consapevolezza che oggi rappresenta l'unica istituzione in grado ancora di avere risorse finanziarie da poter utilizzare per investimenti nelle nostre città oppure noi perderemo ancora un'occasione importante di sviluppo per il nostro paese. Lei parla molto di concetto di rete, di unione delle varie realtà siciliane, quindi una rete che sia comprensoriale e una rete che guarda al globale e quindi un modo differente di fare anche comunicazione per recuperare credito a livello internazionale. Assolutamente sì. O riusciamo a fare rete e presentare al mercato internazionale un'offerta politica e di valorizzazione e di promozione del nostro territorio che faccia sì che si esca dalle mura che hanno recintato fino a oggi le nostre rispettive città per fare valere quanto bella sia la nostra terra di Sicilia oppure noi avremmo perso anche questa grande occasione. In un mercato globale dobbiamo presentarci come terra di Sicilia con tutte le sue meraviglie e tutte le sue bellezze. Per quanto riguarda il suo legame e naturalmente la sua passione per quanto riguarda la politica e soprattutto con il Partito Democratico che lei si accinge a rappresentare anche a Bruxelles esiste realmente una differenza tra quello che è il Partito Democratico e quelle che sono le realtà politiche differenti in Italia in questo momento secondo lei? Una differenza sostanziale? Il Partito Democratico di Matteo Renzi rappresenta una grande sfida e una grande occasione per tutti gli elettori italiani. Renzi con l'adesione al Partito Socialista Europeo ha voluto dare il messaggio di un punto d'arrivo ma anche di un punto d'inizio per un partito che ha una vocazione maggioritaria e che ha l'ambizione quindi di rappresentare un Paese, che ha l'ambizione di essere un partito di governo in grado appunto di raccogliere al suo interno le varie aree e soprattutto le famiglie della tradizione culturale italiana che hanno formato il nostro Paese e hanno formato la democrazia nella nostra Repubblica. Faccio appunto riferimento alla sinistra progressista e democratica, alla famiglia del cattolicesimo popolare, alla famiglia del socialista e riformista. Questo è il grande progetto di Matteo Renzi per una Italia che va cambiata, va riformata. A fronte di questa proposta politica oggi l'unica proposta alternativa che c'è è quella sfascista e quella qualunquista. Io penso che gli italiani non abbiano molto da dover scegliere, a meno che non decidano di dover consegnare al caos questo nostro Paese. Grazie a tutti!